Dal Vangelo secondo Luca Perché? Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé. Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso. Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è che accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Sì. 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 Sì.